Ben trovati con il TGLIS di Telebari. La Procura di Bari ha chiesto due condanne a 16 anni di reclusione per Nicola Amoruso e Francesco Ricci, accusati dell'omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione di Giovanni Colai Anni, il 43enne ucciso a Bari nel quartiere Libertà la notte tra il 21 e il 22 giugno 2023. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella sera Amoruso e Ricci avrebbero avuto un litigio via social con tanto di minacce di morte con il figlio della vittima relativamente a un presunto debito di 1000 euro. I due, alle 2 di notte, avrebbero citofonato a casa di Colai Anni aspettando di trovarsi davanti il figlio. A uscire però fu il padre colpito a morte da due colpi di pistola esplosi da Amoruso, poi rea confesso. Noi presenteremo un Pug Ombra che quando ci sarà consentito migliorerà e completerà quello presentato dal sindaco Leccese. Lo ha detto il consigliere comunale leghista di Bari, Fabio Romito, nel corso di una conferenza stampa indetta per presentare le iniziative dell'opposizione sia sul tema del Pug sia su quello dell'ordinanza sindacale antimovida al quartiere Umbertino di Bari. Sul Pug il centrodestra barese parla di telenovela. Quando all'ordinanza contro la malamovida l'opposizione in comune parla di norma vessatoria, inutile e irragionevole. E adesso le altre notizie del TGLIS. Approvate tre norme importantissime per una Puglia all'avanguardia. Si tratta delle norme per dare operatività a 406 prestazioni sanitarie previste nei LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza del 2017 e purtroppo sempre rinviati dai vari governi nazionali. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, Fabiano Amati, aggiungendo che queste norme sono state approvate con la condivisione e il parere favorevole del presidente Emiliano e il voto un'anni di tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione. E per questo sono veramente grato a tutti. Nuova tappa per l'aerospazio pugliese per consolidare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti. La Regione Puglia approda Washington nell'Ambasciata Italiana. Il progetto ha l'obiettivo di presentare gli ecosistemi territoriali e creare possibilità di investimenti, in particolare nei settori dell'aerospazio e delle scienze della vita. Si tratta di un'iniziativa internazionale di incontro e confronto con autorità e operatori esteri, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Dell'Inoci, che hanno tutta l'intenzione di costruire nuove relazioni commerciali con l'Italia in due settori specifici. Un consorzio internazionale di recente fondazione cui Unibba partecipa, ha pubblicato un articolo programmatico sulle tecnologie più avanzate per lo studio di questa regione cerebrale mediante tecniche non invasive. Il lavoro è stato pubblicato su una prestigiosa rivista. L'articolo che abbiamo pubblicato fornisce indicazioni metodologiche di frontiera per la ricerca sul ruolo del talamo nella capacità di cognitive e in varie condizioni cliniche di interesse neurologico e psichiatrico, dichiara il professore Giulio Pergola, membro fondatore del consorzio. Si intitola Donne, Vino e Segreti, il podcast realizzato dall'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, in sinergia con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia. Il progetto è stato presentato nella sala conferenza dell'assessorato all'agricoltura. Il tema dell'emancipazione delle donne imprenditrici, vitivinicole e dei complessi equilibri da gestire in ambito sociale, familiare e professionale sono al centro di questo racconto femminile plurale che parte dalla terra e dalle cantine di Puglia con uno sguardo lungo sull'intero territorio nazionale. Alla conferenza stampa presenti Donato Penta Sui, assessore all'agricoltura della Regione Puglia e la scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica Giulia Blasi. E adesso le notizie provenienti dall'area metropolitana e dalla Regione. Falsi crediti maturati su lavori edili mai fatti e relativi ai mobili che non esistono. Una truffa ai danni delle casse dello Stato pari a 52 milioni di euro messa a segno usando illecitamente i bonus facciate, ristrutturazione e il sisma bonus. A scoprirla sono stati i finanziari del Comando Provinciale di Barletta che hanno sottoposto a indagine per indebita percezione di erogazioni pubbliche 14 persone e sequestrato beni dello stesso valore della presunta truffa. Si tratta di crediti d'imposta conservati nel cassetto fiscale di soggetti economici per un importo superiore a 15 milioni di euro, beni immobili, partecipazioni societarie, 7 auto e altre tante moto, un orologio di pregio e il saldo di 59 conti correnti inesistenti agli indagati. Sono 5 al momento le persone indagate a Brindisi nell'ambito di un'inchiesta della Procura su una presunta compravendita di voti che sarebbe avvenuta durante le amministrative della primavera del 2023. L'ipotesi di reato nei loro confronti è quella di corruzione elettorale. Tra gli indagati c'è il 53enne Brindisino Vincenzo Corsano già in carcere per un'altra inchiesta per associazione per delinquere finalizzata ai furti d'auto. Proprio da quell'inchiesta emerse l'ipotesi di voti comprati per 30 euro ciascuno durante le amministrative di oltre 18 mesi fa. Sono ancora in corso accertamenti su chi avrebbe commissionato il procacciamento dei voti e chi sarebbe stato il candidato a cui sarebbero state destinate le preferenze comprate per 30 euro. Nuova intimidazione al GIP di Lecce Maria Francesca Mariano da oltre un anno sottoscorta per le continue minacce di morte ricevute. In aula è stata trovata la foto del giudice circondata dal disegno di una bara fatto con un pennarello nero con tanto di croci. Il ritaglio è stato sequestrato e consegnato ai poliziotti della squadra mobile che indagano sulle intimidazioni ricevute dalla magistrata assieme alla PM della DDA di Lecce, Carmen Ruggero. Entrambe nei mesi scorsi sono state destinatarie di lettere intimidatorie con minacce di morte e anche di tentativi di aggressioni durante gli interrogatori. Un detenuto, inoltre, hanno accertato le indagini, avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla PM Ruggero e per tagliarle la gola durante l'incontro. Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie, attualmente intitolata Avetrana, qui non è Hollywood, è rinviato. Lo rendono noto la casa di produzione Groenlandia e la Disney, che avrebbe dovuto trasmettere la serie dal 25 ottobre sulla sua piattaforma streaming, precisando che le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti. E con il TGLIS è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti.